E cambiamo argomento, occupiamoci adesso di quelle che sono le vicende legate all'uccisione dell'Orsa Marena perché i cuccioli del Plantigrado stanno bene e dopo essersi separati per un po' di tempo si sono riuniti all'interno dell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Lo hanno verificato i tecnici del PNALM che ieri pomeriggio hanno avvistato i due cuccioli nei dintorni di una pianta di melo in aperta montagna. Le condizioni dei due giovani esemplari di Orso Bruno Marsicano, nati tra dicembre e gennaio scorsi, sembrano buone. Il fatto che in questi giorni si siano alimentati spinge i tecnici a non forzare la mano sulla loro cattura lasciando presagire indipendenza e autonomia all'interno dell'area del Parco che permetterebbero loro di sopravvivere in condizioni naturali. I tecnici del Parco hanno accertato anche che i due cuccioli hanno percorso più di 10 km dal luogo dove è stata uccisa la madre a San Benedetto dei Marsi ma non escluso che, data anche la giovane età, proseguano le loro scorribande nel territorio.